in quella zona con i... come si chiamano? ops, sono caduto? ah, interessante, non sono morto con i... ora sono morto ah, mannaggia a me onde che? soto maior, voliamo, yuhuuu ultimamente, ok, niente, oggi tendo a leggere le cose che ho già letto fantastico oh, attenzione, me l'avevo dimenticato che stavamo giocando a Mario Wonder eh, oddio si è un pochino rallentato il tempo devo parlare così ma quanto è lento Mario no, no Mario, Mario si è giusto però, volevo un attimo prendere questo affare, intanto è molto semplice da prendere Mario, Mario, non mi... Mario, Mario, Mario ah, ma io posso saltarli questi? vabbè, ma così sono buoni tutti però ciao ah, ah, uno tigre neanche bello, sei un coglione Darsh sei veramente un coglione wiii aiuto però, voglio vedere un po' come funziona intanto vediamo se c'è qualcosa di qua ah, di qua si esce mi sa questo tanto neanche lo prendo togliti, togliti ok, lo prendo perfetto come nice c'è un giapponese che dice nice complimenti Darsh il fungo, il fungo, il fungo il fungo, il fungo adesso posso essere più grande quindi ho sbagliato la fretta la fretta a bambini fa brutti scherzi beh, si dai, è scontato dai ci ho fatta posso dire che averci stasera mi butto oh, qui volevo fare una cosa del genere yuhuuu uuuu 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 uuuu